Mi rimettiamo tutta questa rotta... Moffetta, tu ci sei ancora? Certo. Porterò fuori il cane. Un cane free free? Anche lui? Un cane free free? Una cagna free free? Eeeh... Per fortuna non c'è Bruno. Ok, ditemi che... Cioè, fai passeggiato come un'altra volta che... No, non comando io. ...C'è un fai passeggiato, ma è sempre... No, se adesso... Ragazzi, questa è l' Госfondo Wattenberg. Ma se nel quale c'è il suo cuore, non lo ho detto di non lo faccio dire. E' un fai passeggiato come... Da me anche qui... Ma me va di meno. E sai come sono le donne che fai canone? Eeeh mamma mia. Ok. Dietemi se si vede il gioco. Sì, tutto perfetto da me. Perfetto, non c'è bisogno di risposta. a trabbiarti simone ci sarà che stavo dicendo per grandissimo grandissimo anche questi menu sono bellissimi abbassa davidone o abbassato giochiamo alla versione classica a quella remastered c'è la classica facciamoci sanguinare gli occhi vai classica proprio al core old school clarice siamo a spring valley non ci viene dato un contesto niente o niente per ok mamma mia fa sanguinare gli occhi questo mi sa che era per drink ok ora siamo un coso che vuole stiamo volando ragazzi però sì capito il character design non hai idea proprio vabbè sonic sonic ce l'ha il character design diciamo che c'è un quello in due dici sì c'è un certo punto che ma sono sottosuo ma è voluto che sono sottosuo cioè c'è un modo per addrizzarmi a come lo controllo cioè io dovrei andare lì davanti come è che mi sto facendo c'è un tasto a quei tasti nostri tipo mi giro no come mi faccio andare avanti ma è 2d cioè non capisco se il movimento è 2d il movimento no ah ok quindi il movimento è 2d ok non lo so io ti sto guardando mi sarebbe piaciuto per la prossima volta dice francesco bonanz per la prossima volta per aiutare i giochi non adatti propongo un cruciverbo in streaming che ti è finito assicurato effettivamente non sarebbe male meglio di questo ma anche problematica l'idea con la chat che scrive peccato che c'è il delay che rompe un po' sempre questi progetti però perchè? un aspetta eh vabbè sì dove c'è il cuciverbo anzi più calmo del cuciverbo effetti sì bello dai io non ho idea di cosa sto facendo cioè che parli così vedendolo immagini io giocandolo come mi sento diciamo noi non rischiamo attacchi emilettrici per non ci sbombare eh effetti c'è roba che sta succedendo mi fa cagare questo gioco però adesso non so cosa sta succedendo che cos'è questa roba tu stai dentro e che fai? ti dà delle palle devi raccogliere palle ah ok devo raccogliere palle vanno avanti e raccolgo palle esatto i controlli sono i controlli sono qualcosa che davvero non auguro a nessuno di utilizzare ma perchè fai a fare la stessa cosa? ah è lontananza tipo clono ah no sì sì è 2D ma col 3D è lontananza clono anche ha detto è viva lui ho detto è viva lui io direi proviamo la versione remastered no? vediamo se è meglio sì al volo dai proviamo al volo la versione remastered vediamo se comunque Francesco Bonazzi dice almeno non rischiamo attacchi emilettrici che bello sono commosso potenza sega Gactus ma vaffanculo Gactus SEGA chiaramente allora siamo scelto Claris Eriot a suo giro no ancora Claris dai Claris è il nostro nome di scelta allora la grafica diciamo che rimane nello spirito del gioco è uguale eh aspetta però questa gli hanno messo i poligoni cioè eh dai dai no no sempre lei sì sì è una differenza sì oh quindi posso andare in giro anche normalmente mamma mia fa cagare lo sesso sì allora per oracola il gioco maestro perché com'è io è Space Channel 5 ma non c'è 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 ma anche io perché questa cammina qua ah devi andare dentro ma che fase è perché mi fai camminare se poi devo entrare subito no non lo so io sono andato un po' in giro così ma il gioco è praticamente uguale cioè ci hanno messo che poi è giù cioè se fosse saluta gli addominali lei si sposta tantissimo gli addominali no ma comunque guarda il gioco è praticamente identico ma scusa però fermate dai fa partita dalla destra perché vai a sinistra tutte le volte aspetta te scorsi tu sei in ritardo e non hai idea di quello che sto facendo io ora ma no c'è la freccia ma niente sto facendo la stessa cosa di prima e facendo un altro discorso il gioco è riesce a mantenere praticamente tutto ciò dell'originale pure la grafica lo stile grafico se di si può parlare il gameplay è identico e personalmente va benissimo questo approccio per un gioco che magari non fosse questo questo non so chi l'ha pensato sotto quali trovi l'ha pensato questo gioco però preferisco mille volte un approccio così per i remastered che te fa lo stesso gioco solo un po' più pulito widescreen magari eccetera o brobri tipo pacman championship edition lì che è davvero uno stupro del concetto di pacman in generale sto gioco non so sotto quali droghe l'hanno creato però non capisco neanche cosa sto a fare Simo che ne pensi te? io non capisco non ho il pad in mano quindi c'è ma lo sta in brighieri vai non capisco è un gioco per la pattana se ti pensi eh io non capisco se c'è un modo di muoversi in 3d perchè per queste cose in 3d e non posso raggiungere tutto si si ahhh no cioè come sa questo tanto tutto ah se ne sblocca bene forse vediamo ah perchè posso girare intorno esatto posso girare intorno in realtà più o meno forse lì torna sotto e rifarlo tanto no comunque la mia recensione diciamo in una frase come chiamano le nostre bling è un gioco dove succedono cose cosa succede non l'ho ancora capito no no così comincia a capirsi la roba eh 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 potrebbe averci la tua fila perchè quelli ti permettono di cambiare verso vedi ma si più o meno si vabbè tu lo vedi di io lo vedo più tardi ehhh beh io con questo direi che con quest'ultimo chiodo nella bara di free playing gioca possiamo chiudere benissimo chiede qual è lo scopo di questo gioco credo sia raccogliere cose eh si raccogliere... cioè passare dentro tutti gli anellini e tornare il meno tempo possibile alla base una roba così ehhh e andiamo in chiusura saluti si opinioni grazie a tutta la giunta di tutti e sette se vi ricordiamo che se volete su T-Spec e dopo entrate delle calzate in privato solo se avete pagato su Patreon però esatto ringraziamo Brunone che sta morto che sta dormendo ma che è stato con noi fino adesso Matteo Bexott che sta qui Moffetta anche che non so se è andato o no e ricordatevi si citate su piùprime.it ogni domenica alle 21.30 stiamo in diretta i contatti di Davide lasciate un contatto se vuoi anche se abbiamo... potete trovarmi su scriptaludica.com e pure su Omimimpo Twitter ok ehhh andate pure su Backsoft il tuo canale Twitch com'è? ricorda? Backsoft ok cercate Backsoft cuoricellatelo che ogni volta lui gioca tanto ultimamente ci sono andato a vedere i cazzeggi a me mi trovate su chiocciola ben malossene ma intanto tutti i contatti e le robe mi trovate su freepunk.it buonanotte e alla prossima Twitch app ciao buonanotte 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 buonanotte